Ciao, sono Vincenzo. Ho iniziato il percorso con Canada CIS il 2 gennaio 2022. Il mio consulente di migrazione si chiama Matteo Martinelli, una persona molto simpatica e mi ha aiutato in tutti i dettagli nel raggiungimento appunto del visto lavorativo. Ci ho messo un anno e sei mesi, però infine l'obiettivo è stato raggiunto. Un po' a causa della burocrazia italiana molto lunga. Matteo mi ha aiutato per tutto il percorso, appunto ha risposto a tutte le mie domande. È stata una persona molto disponibile. Consiglio che vi posso dare di preparare tutti i documenti appunto il prima possibile per velocizzare appunto il processo di migrazione. Non è un processo semplice, è un processo che appunto richiede un po' di tempo, però l'importante è raggiungere quello che è appunto l'obiettivo, cioè ottenere quello che è il visto lavorativo. Un'altra cosa molto importante è ascoltare il proprio consulente, cercare sempre di darsi una mano l'un con l'altro e di collaborare. Comunque grazie a Matteo sono riuscito ad ottenere il mio visto lavorativo per il Canada pronto per la partenza.